E oggi, pasta con funghi e Philadelphia, cremosa e super facile da fare. Pulisci lo spicchio d'aglio, taglialo a metà e infilzalo in uno stuzzicadente, in questo modo dopo la cottura dei funghi sarai facilitata a trovarlo. Versalo poi in una padella assieme a dell'olio. Pulisci i funghi, tagliali a fettine. Versalo in pentola, aggiungi il sale, prezzemolo trittato e fai cuocere per 10 minuti. Quando i funghi saranno pronti, togli l'aglio, aggiungi il burro e fallo sciogliere. Versa poi il Philadelphia, aggiungi dell'acqua di cottura della pasta per renderla cremosa. Aggiungi anche la panna. Quando la pasta sarà pronta, scolala, versala nel sugo di Philadelphia e funghi. Mescola bene e se fosse necessario, aggiungi dell'acqua di cottura della pasta. Spolvera con il prezzemolo tritato, mescola bene e servi la pasta ben calda. Hai visto com'è facile prepararla? E ora non ti resta che provarla. Super cremosa e perfetta per ogni occasione.